Hello! Bentornati o benvenuti sul mio canale amici Allora vi dico già due cose che la fotocamera sta avendo dei problemi in questo momento Non so perché, devo aver fatto qualche danno, non ho idea Ma dovete sapere che ce la siamo portata dietro per tutto il mese Ma adesso vi racconterò Comunque spero che riusciate a vedere bene questo video e che non ci siano problemi di monitor In secondo luogo ho una voce stranissima perché esco da un momento di allergie acute Grazie alla primavera e anche grazie a Milano Ma poi ne parleremo anche di questo In ogni caso amici oggi c'è una puntata davvero davvero molto molto speciale Davvero davvero molto molto Cioè più di così non sapevo che dire Dovete sapere amici che io e il buon Art Marvin che mi aiuta sempre come al solito Il montaggio anche questa volta e il suo ma anche il supporto tecnico di questo bel video che vedrete Siamo stati in giro praticamente tutto il mese di aprile Siamo tornati tre giorni fa ed è dal 4 aprile che siamo in giro per l'Italia Dove siamo andati? Allora, il video che vedrete oggi riguarda le giornate del 4 e 5 aprile Cosa abbiamo fatto il 4 e 5 aprile? Siamo andati in Toscana a Colle Valdelsa a trovare gli amici di Arnolfo di Cambio In particolar modo abbiamo incontrato Gabriele Bagnasacco che è il CEO di Arnolfo di Cambio Cos'è Arnolfo di Cambio? Beh amici se siete su questi schermi da un po' di tempo Da un po' di anni probabilmente Conoscerete già l'azienda Arnolfo di Cambio Si tratta di una cristalleria italiana che produce bicchieri disegnati da alcuni dei più grandi designer e architetti d'Italia Si può dire Comunque avrete avuto modo di incontrarla nel corso dei miei video Quando abbiamo parlato di due cose in particolare Del film Blade Runner e soprattutto della designer O meglio dell'architetto ma noi ne abbiamo parlato in qualità di designer Cini Boeri Perché? Perché cari amici Arnolfo di Cambio è la casa di produzione dei meravigliosi, mitici, iconici bicchieri Disegnati appunto da Cini Boeri e presenti e ben visibili nel film Blade Runner Si amici proprio quei bicchieri da cui Harrison Ford se beve il whisky nel film Blade Runner Vengono inquadrati due volte Sicuramente agli sguardi più attenti questo dettaglio non sarà sfuggito Arnolfo di Cambio mi ha invitata tempo fa a visitare l'azienda Ma soprattutto a intervistare e ad ascoltare le meravigliose storie Che Gabriele Bagnasacco ha conservato nel corso degli anni di attività Poi vabbè amici dopo siamo andati a Milano un po' a fare cose a caso E un po' poi siamo stati al salone del mobile Ma questa è un'altra storia e verrà raccontata un'altra volta E vi prometto che verrà raccontata anche perché durante quella settimana sono successe delle cose succosissime A partire da un nuovo incontro con Arnolfo di Cambio Fino a altre cose che poi vedrete che hanno coinvolto tutta la community di architettura dell'internet italiano Ecco mettiamola così Comunque amici bando alle ciance Io vi lascio subito la parte di intervista che abbiamo girato appunto a Colle Valdelsa In cui il buon Gabriele Bagnasacco che saluto in questo video e ringrazio tantissimo Ci ha raccontato tutte le sue storie Vi giuro che è una cosa interessantissima Guardate Buongiorno amici Oggi puntata particolarissima Perché in realtà non sono nel mio studio Ma mi trovo sui Colli Toscani Ebbene sì Perché siamo a Colle Valdelsa A casa di Arnolfo di Cambio Quindi azienda di cristalli che se siete abituati al canale avrete sicuramente avuto modo di conoscere già Perché chiaramente per il bicchiere cibi di Cini Boeri E oggi sono ospite proprio di Gabriele Bagnasacco CEO di Arnolfo di Cambio Che mi ha gentilmente invitata a visitare il posto dove nasce il design e l'inventiva di Arnolfo di Cambio Comunque come dicevamo prima ci troviamo in un posto noto per il cristallo Però sicuramente l'azienda Arnolfo di Cambio segna, barca quel confine tra semplice cristallo Lasciami passare il termine E qualcosa di più Vale a dire il design Ma a questo punto io introdurrei la persona che è qui con me Che è appunto Gabriele Bagnasacco Raccontaci un po' di te all'interno di Arnolfo di Cambio E insomma del tuo percorso, della tua esperienza all'interno di questa azienda Presentati ai nostri ascoltatori Sì, allora sono appunto Gabriele Bagnasacco Grazie di essere venuta di Reik Grazie a te E sono ormai 35 anni che sono entrati in azienda come terza generazione L'azienda è stata fondata dal nonno e dal papà nel 63 Hanno scelto Colle Valdessa perché era già allora una patria, la patria del cristallo Non al piombo ma era un cristallo sonoro, di vetro sonoro E quindi hanno scelto per le manovalanze, le maestranze, i molatori Per tutto l'indotto che c'era intorno a questa cittadina Che già nel 1800 fabbricava dell'ottimo vetro sonoro Il nonno litigando con un fornitore locale Si intestardì dicendo appunto che avrebbe fatto la sua fabbrica Per fare come voleva lui Perché era una testa molto dura al nonno E quindi tempo, due anni, ha aperto l'Arnolfo di Cambio a Colle Valdessa nel 63 Giusto il 12 settembre Quindi quest'anno ricorre il nostro sessantesimo anniversario E io sono entrato molto giovane perché ero un pessimo studente E quindi all'epoca, diciamo, delle vetrerie era una punizione mandarti in vetreria Non volevi studiare, finivi in vetreria Io non sono andato così velocemente in quinta elementare come tanti dei nostri vetrai Sono formati negli anni 60 e 70 Ma ci sono entrato a 15 la prima volta e a 19 c'ero già Quindi hai iniziato a 19 anni Ma si è entrato un po' dalle retrovie Sì sì ma già a 15 gli stati venivo in vetreria per guadagnarmi un po' di soldi Per poi fare come mi pareva quindi non sottostare alla famiglia E agli obblighi scolastici che non portavo avanti bene E quindi mi mandavano in vetreria la mattina Che è un lavoro molto duro perché ti alzi la mattina alle 4 Alle 5 cominci il lavoro Però è una grande scuola formativa Perché comunque vuoi perché ti alzi presto Vuoi per il tipo di persone con cui interagisci Che sono semplici Dotate di un gran sapere Una grande manualità Ma anche direi quasi dei bulli Nel senso di prendere in giro Sulle ragazze Sul bere Sul caffè Sul fumare C'è soprattutto un ragazzo giovane Che ha 14-15 anni Entra in quell'ambiente Ascolta come si prendono in giro Come interagiscono tra di loro Insomma ti svezza È un qualcosa che ti sveglia Perché comunque non è che Perché ero il figlio di Venivo trattato in modo diverso Venivo trattato come uno di loro Quindi hai iniziato proprio mettendo mano Sì sì Il lavoro che facevo il primo Era di aprire le forme degli stampi E poi bagnarle E portare i bicchieri ad affreddare nella tempera Quindi tutto il giorno Facevo chilometri a piedi Perché con queste palette di legno Ricoperte di un materiale Che fa sì che i bicchieri non scoppino Dovevo portarle nella tempera Per raffreddare Aprendo col piede questa porta E chiaramente era difficile Anche la disciplina Perché per alzarti alle 4 Devi andare a dormire A un'ora decente Ecco Cosa che io facevo fatica A 14-15 anni Tendevo andare a dormire a mezzanotte Quindi la mattina Primo giorno L'entusiasmo del nuovo lavoro Secondo pure Il terzo comincia a aver sonno Quindi ti sostieni con i caffè Cominci il primo caffè alle 4 Secondo alle 5 Poi una alle 5 e mezza Poi conti C'è veramente Era una quantità di caffè incredibile Poi ho cominciato a fumare Quindi caffè Sigaretta Sigaretta Caffè Ma le mani sono sempre impegnate Quindi la sigaretta Comincia a tenerla in bocca Il fumo ti va nel naso Non sei abituato Già a fumare Perché avevo appena cominciato E quindi Mi ricordo che Quarto, quinto, sesto giorno Mi cominciavano a cadere i bicchieri Cioè Mi era addormentato E venivo ripreso Su queste cose Ah ti è caduto un altro bicchiere Piuttosto che devi pulire le canne Con Battendole Con questo metallo E questo cristallo Che schizza dappertutto Cioè quindi è anche un lavoro Che devi fare con estrema attenzione Perché il cristallo Viene lavorato A 1100 gradi Anche quando batti una canna È a 500 gradi Questi bicchieri Che prendi in mano Con delle pinze Sono a 600 gradi Cioè quindi È un lavoro Non da fare con disattenzione Perché comunque Ti bruci Ti tagli Ti fai male Cosa è molto formativo E poi mangiavo Verso mezzogiorno Si staccava Mangiavo E il pomeriggio Mi toccava il magazzino Ecco Questo già a 15 16 17 Le tre estati Poi dai 19 Sono entrato a tutti gli effetti In azienda Dove la vetreria Non la frequentavo più A livello di lavorarci Ma ci andavo Perché era Affascinante Tutte le mattine Comunque La prima cosa che facevo Quando eravo in azienda Era di andare a vedere Come era il cristallo La qualità Perché Viene Fuso In un grande Contenitore Di materiale Refrattario A 1400 gradi Un giorno Viene bene Un giorno Viene male Quindi Se viene male Non si può produrre Quello che si era programmato Di produrre Perché magari Il difetto È eccessivo E tu butteresti Dietro la produzione Certo Beh Sicuramente interessante Essere partiti Proprio dalla base La gavetta La gavetta Utile però Esatto Però è stata molto formativa Anche veramente A livello umano Anche Appunto Nell'umiltà Del lavoro Perché comunque Quando è che puoi soffiare Soffi dopo 10-15 anni Quando attacchi Un gamba A un calice Che sono una delle cose Più difficili Dopo 8-9 anni Quindi Quando cominci Hai lavori Più Più brutti Di tutti Certo Cioè comunque Stare lì A aprire una forma Bagnandoti le mani Nei stampi pieni di gra Cioè comunque Il lavoro più fastidioso Per come l'ho abituato io Era sicuramente Un grande cambiamento Però è stato molto formativo Però dopo insomma C'è stato il salto Nel senso che poi piano 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 Ho fatto un po' tutti I Tutti i vari Ruoli Nell'azienda Da Da parte Ufficio Inserire gli ordini Farle bolle a mano Perché si usava Farle a mano Fare i pacchi postali Perché mi ricordo Che quando entrai Sottoposi a mio padre E il socio Le nostre deficienze Di servizio ai clienti Arriva un bicchiere rotto Nessuno gli manda Il bicchiere rotto Fallo tu Quindi Facevo i pacchi postali Per i rimpiazzi Delle rotture dei clienti Però il pacco postale Andava Legato Incrociato Sopra e sotto Piombato lateralmente Messa la bustina Di plastica Applicata Al cartone esterno Scritto a mano Il bollettino Me lo dovevo caricare Sul furgone Andare alla posta Scaricarli tutti Dare tutti i bollettini Pagare Era un lavoro Tant'è che poi Piano piano L'uomo dei pacchi postali C'era una volta al mese Perché Piano piano Era una volta alla settimana O una volta ogni due settimane Una volta al mese Giusto ieri Gli ha fatti Per procrastinare Il più possibile Questo lavoro Che odiavo E capivo anche Perché non lo faceva nessuno E giustamente Era più semplice Mandare il bicchiere rotto Con un nuovo ordine Allora potevi inserire Il bicchiere in più Ma mandare via Un bicchiere solo Tutto questo lavoro Era macchinoso Era macchinoso Beh però Sicuramente appunto Come hai detto Tu è stato formativo Nel senso che Ti ha fatto capire Anche i vari step I vari dettagli Di questo lavoro Cioè Per capire Che un'azienda Sì C'è la parte manuale C'è la parte di testa Ma ci sono tanti Piccolissimi dettagli Che appunto Sono fondamentali Però come dicevamo All'inizio Il marchio di fabbrica Di Arnolfo di Cambio È sicuramente La grande apertura Verso il design Soprattutto italiano Ma anche internazionale Ti ricordi O comunque Sei dirci un pochino Com'è nata Questa voglia Di collaborare Con i grandi nomi Del design Con i grandissimi nomi Del design E poi come si è evoluta Fino ad oggi Questa Questo rapporto Tra Arnolfo di Cambio E i vari appunto Cini Boeri Come abbiamo visto Ma poi vedremo Che ce ne sono molti altri Dunque è nato Per il grande senso estetico Di papà E dell'amore per il design Che in quegli anni Lì stava esplodendo Stiamo parlando Degli anni 60 Papà aveva 26 anni Quando venne messo A dirigere l'azienda Quindi nel 63 Apre l'azienda Papà viene messo A dirigerla Quindi aveva Sì era del 41 23 22 23 anni E in quegli anni Lì si cominciava A intravedere Nell'arredamento Insomma c'era Tanto design Che cominciava E lui Comunque Amava circondarsi Di queste belle cose Ed era amico Di Gioe Colombo Che non era appena Diventato architetto Ma non lavorava ancora Nel campo dell'architettura Vendeva automobili Papà correva in macchina Faceva le gare in salita Quindi Gioe lo chiama Parliamo del 61 Direi A Milano Per andare a provare Un'auto nuova Che era arrivata In concessionario Una Mini Cooper Perché correva molto Con le Mini Cooper Le lance successivamente Ma comunque La Mini Cooper Era la sua fissa Quindi va a Milano In questo concessionario Penso in Corso Sempione Prova l'auto Con Gioe E dice a Gioe Devo scappare Perché mio padre Mi sta aspettando a casa C'è un architetto Perché stiamo facendo Un albergo in Sardegna E Gioe dice Ma come Noi siamo amici E tu non mi chiami A questo incontro E dice No Sono cose di mio papà E un suo investimento Io presenzio Perché mi sta cercando Di coinvolgere In tutto quello che fa Quindi Lo convince A portarlo dal nonno Che lo incontra E Gli spiega Che insomma Ormai il progetto architettonico Di questo albergo L'aveva già dato A un architetto Penso locale In Sardegna Ma che gli interni Volendo Poteva ancora Darli a qualcun altro Ma i tempi Erano molto stretti Quindi disse a Gioe Guarda Se te la senti Io ti do 48 ore Per presentarmi La tua visione Degli interni Di questo albergo Gioe mi pare Lavorò Notte e giorno Perché arrivò Due giorni dopo Con un plastico Realizzato Degli interni Della reception E il nonno Si entusiasmò Al punto Che disse Va bene L'incarico Sarà tuo Per questo Gli valse anche Un premio Inarc Del 62 Mi sembra Per questo Interno Di albergo In Sardegna Per conto Di mio nonno Grato di questa cosa Regalò Appunto Il bicchiere smoke Il disegno Cioè Se lo regalò Questa è un'altra Leggenda Perché poi Ho ritrovato Una lettera Di quelle scritte A macchina Con la lettera 25 Degli olivetti Dove dice Che per quel Corrispettivo Ricevuto Non aveva più Da avere niente A livello di royalty Quindi Venne pagato Il progetto A forfè Per i modelli Scala E gli regalò Lo smoke Che è il nostro Primo bicchiere Di design Datato In produzione 63 Ma disegnato 61-62 Dove appunto La particolarità Era proprio Di poter Impugnare Il bicchiere Con una mano Per poter Avere l'altra Libera A un evento A un cocktail E bere E fumare Con la stessa mano Bicchiere prodotto Inizialmente Questo era Un cilindro Che veniva Scavato Manualmente Con le mole Poi arrivò L'iniezione Anni dopo Quindi Inizialmente Era molto Meno scavato Cioè La presa Era molto Più pesante Poi fu Leggermente Industrializzato Negli anni Successivi Quindi Questo fu Il primo Regalo Di Gioe Colomba A papà E tracciò Un po' La strada Dell'azienda Già Inventarsi Il nome Il nonno Col papà Scegliendo Arnolfo Di Cambio Architetto Scultore Nato a Colle Valdestra Nel 1200 15 O 30 Non mi ricordo Adattamente Scusate Questa Dimenticanza E quindi Era già Dare Una direzione All'azienda Comunque Di dire La chiamo Arnolfo Di Cambio Perché Questo grande Genio Nato qui Voglio Dare un Messaggio All'esterno Chiaro Che l'azienda Sarà Sarà orientata Verso Il design L'architettura Come fu Arnolfo Di Cambio Nella sua epoca E da lì Poi Le collaborazioni Fuero numerose Beh devo dire Che il bicchiere Smoke Forse ce lo siamo Detto anche prima Di iniziare A girare Questa intervista E' uno dei miei Preferiti Perché sinceramente Lo trovo Geniale E' effettivamente Un pezzo di design Ma quello Proprio con la D Maiuscola Perché unisce Appunto Anche l'estetica Che è molto particolare Originale E distinguibile Ha una funzione Che peraltro È una funzione Molto particolare Perché uno Pensa che il bicchiere Sia semplicemente Il bicchiere Da cui bere Invece quel bicchiere Lì permette di fare Una serie di altre azioni Sì sì Come permette E' venuto fuori Poi negli anni successivi A una persona Che ha delle disabilità Con la mano Di impugnare Un bicchiere Con due dita In maniera Sia Immagini se ti mancano Le dita Comunque lo impugni Facilmente Sì sì Rispetto a un cilindro Che hai bisogno Di comunque Abbracciarlo Cioè questo Veramente lo tieni Anche con un dito Sì Cioè quindi Puoi veramente Se uno ha Delle impossibilità Di presa Gli facilita parecchio Il compito di bere E quindi a proposito Di funzione Del bicchiere di Colombo Che ci ha dato In là Noi stiamo bevendo Del rosso In un bicchiere Che ha Un altro dettaglio A mio parere Geniale Però a questo punto Ti lascio la parola E me lo racconti Questa tacca Che poi è un'unghiata Fatta nel bicchiere È provato Da sommelier E da test Fatti sul bicchiere Sul calice Che nel momento In cui giri il vino Trovando questo ostacolo Ne esalta Il bouquet E l'ossigena Prima di un calice Normale Beh in effetti Profumo Si sente Vabbè che avete vino buono Anche C'è da dire Però il bicchiere Fa il suo È molto particolare E soprattutto È un dettaglio Che le macchine Non possono fare Quindi viene prodotto Solo a mano Tutto oggi Solo a mano Perché il calice È soffiato a bocca Col gambo tirato a mano Il piede attaccato a mano E questa tacca Viene fatta Riscaldando La pareson Che è la parte superiore Del bicchiere E poi entrandoci Con un attrezzo Che permette Questa Unghiata Nel calice Senza spaccarlo Perché poi c'è Anche quel problema lì È un fatto È caldo Calicemente viene fatto Questo lavoro Sicuramente la mano umana Diciamo Aiuta di più Nella sensibilità Però ecco Un altro esempio Di design Che non bada solamente All'azione del bere Ma anche All'esaltazione del vino E tutto quanto Ma c'è Qualche aneddoto Interessante Allora Io ho avuto modo Di interagire personalmente Con Ettore E con Enzo Che sono Infatti veramente Il bello Di questo Anche di questo lavoro E l'arricchimento Di questo lavoro È stato proprio Incontrare Questi personaggi Questi guru Del design Che mi tenevano Quasi delle lezioni private Perché poi Era un incontro A due Sto provando Dell'invidia Non so Assistito Per dire Con Ettore A Barbara Radice Che gli Preparava la treccia Per uscire Mentre Chiacchieravamo Di bicchieri Lei Gli spazzolava Questi capelli lunghi Gli ha fatto la treccia Per poi andare a cena Insieme I bicchieri Di Ettore Mi ha disegnati Come mi aveva promesso A Filicudi Quindi andò A Filicudi D'estate E disegnò L'Orfeo Che tra l'altro È nato Da un errore Perché questo calice Qui doveva avere Il piede vuoto Non pieno Però nel disegno Che era uno schizzo Non era un disegno Tecnico Io malinterpretare Il disegno E lo feci pieno Quindi quando tornai Da lui Col campione Qualche mese dopo Mi disse Ma è pesantissimo Ma non doveva essere così E io gli spiegare Dico Ettore Guarda È impossibile Scavare il piede Fatto Come viene fatto A iniezione Poi invece scoprì Che si poteva Facendo gli stampi In modo diverso Ma me l'avevo fatto così E poi lo trovavo bello Perché comunque È un bicchiere Che ha una presa Molto piacevole Insomma In mano Cioè Senti la personalità Ha un certo peso In ogni senso possibile Esatto Quindi ha una stabilità Ma anche Poi il cristallo Si esalta al massimo Con gli spessori Con gli angoli vivi Cioè Non è in un calice Come questo Pur meraviglioso Viene esaltato Molto di più Da questa tacca Che dal calice Di per sé Che dal corpo Si Che bene o male Potrebbe essere di vetro E purtroppo a volte Ed è un po' La difficoltà Di noi produttori Di cristallo Fatto a mano Che anche il fatto A macchina È fatto molto bene Quindi Come si Differenzia Uno costa 5 euro 7 euro L'altro ne costa 100 70 80 Quindi con Ettore Abbiamo avuto diversi incontri Tre o quattro Per lo meno Con delle bellissime Chiacchierate di vita Con un aneddoto Suo E che mi colpirono Direi invece Con Enzo Mari È quello che mi ha Stimolato di più Perché comunque Già al primo incontro Quando mi disse Lui venne qua in azienda Come secondo me Un designer deve fare Si Non si disegna Da dietro un computer Ma tu vieni Vedi come lavora L'azienda Vedi le maestranze Vedi le macchine Che vengono utilizzate Capisci Questi Rubi Questi segreti E poi ti metti A disegnare Quindi Enzo Quando andai da lui Per il bicchiere Mi disse Ah Un nuovo bicchiere Non c'è bisogno Di nuovi bicchieri Sfogliando il catalogo Ma lei è pieno Di bei bicchieri Voi imprenditori Consumistici Che state dietro Al mercato Di queste novità Continua Che il mercato Chiede E mi insultò Per un'ora Io dentro di me Dicevo Ma sono venuto qua A prendere insulti E tutte le volte Che ci andavo Alla fine Erano parecchi Erano insulti Veramente Non me lo facevo così In questo ufficio buio Con il suo telefono Di quelli vecchi Con una rotellina Con questi attrezzi Strani Che aveva sul tavolo Di metallo Questi suoi oggetti Particolari Poi passeggiavamo Dallo studio Fino a casa Cioè Veramente era un'esperienza Amavo andare da lui Anche se Uscivo Bistrattato Cioè Mi sentivo Trattato male Ebbè Quindi tornando a bicchiere Come l'hai convinto Alla fine No io dico Lui sfogliava questo catalogo E mi diceva No perché sai Il bicchiere Guarda che bello questo Chi è questo designer Dico E' uno che non è molto conosciuto Lui è molto bravo Questo Questo mi fa schifo E su ognuno Si soffermava Quindi poi Tornò alla ragione Mi disse Allora va bene Torniamo Alla me ha detto Un bicchiere Allora le dico che Quindi aveva riflettuto In questa mezz'ora Di conversazione Forse un'oretta Aveva riflettuto Su quello che gli ho chiesto Se mi disse Allora per me Un bicchiere O un cilindro Proprio disegnandomelo O è un cono O è un bicchiere bombato Altre bicchieri Non esistono Non come mio amico Mangiarotti Che fa i bicchieri Tutti storti Non come E prese proprio Il bicchiere cibi Della Cini Boeri Questo è una cazzata Perché? Perché non è pratico Per berci Bisogna berci d'angolo E' un bicchiere Che va bene per i whisky Ma io e lei mi chiedo Un bicchiere da tavola Quindi un bicchiere da tavola Deve essere necessariamente rotondo Perché altrimenti Se la fa sotto Come immagino quello lì Dico sì In effetti Se la fa sotto Però un bicchiere Per noi best seller Perché comunque Cibi Lo è stato Fin da quando È uscito nel film Allora bene Dice Poi mi racconti Com'è che si esalta Il cristallo Dico con le molature Ecco Allora potrebbe essere Un cilindro Dove noi Gli mangiamo Uno spicchio Gli togliamo Uno spicchio Perché allora Esaltiamo Al massimo Le caratteristiche Intrinsiche Del cristallo Dico sì Però Questo lavoro qua Si fa a mano Che costa una lira di Dio Poi dico Un bicchiere abbastanza visto Non mi pare Dico Enzo Mi sembra che Possiamo andare un po' oltre E allora potremmo fare Un set di bicchieri Dove ognuno Ha una base diversa E io dentro di me Da imprenditore Già ragionavo Cavolo Quattro bicchieri Quattro stampi Poi voglio fare l'acqua Il vino Il bibita Cioè Pazzisco E questo purtroppo Ogni tanto è la pecca del design Cioè che poi non incontra La praticità vera e propria Però mi sembra Che poi alla fine Esatto Ha disegnato Questi quattro bicchieri Dove la base È leggermente diversa Perché quattro amici Che bevono Appunto Whisky insieme Ognuno ha il suo bicchiere Riconoscibile Per queste leggere Differenze Nella base Anche qui È un dettaglio Nuovamente Ma che fa la differenza Però è un bicchiere molto elegante È un best seller Fin da quando l'ha fatto Facciamo appunto La misura d'acqua Da vino E da bibita E lì Lo convinse Mi fece Mi ricordo I modelli Con del polisterolo E fece Dei cilindri Quindi dal bibita Tagliandolo Ad altezze diverse Veniva fuori L'acqua E il vino Quindi risolvemmo Con quattro stampi Per il bicchiere All fashion E quattro stampi Del bibita Che poi tagliato Diventava acqua E diventava vino Quindi alla fine Siete anche riusciti A trovare acqua Sì sì a mediare Questa cosa E fu un progetto Molto ambizioso Perché comunque Quando poi li produci Ne produci al massimo Due alla volta Quindi Ne fai due E ne fai Trecento Ma poi alcuni Sono difettosi Alcuni scoppiano Alcuni sono rovinati Li rifai Altrittura Alla fine Non riesci mai Avere lo stesso numero Di giacenza Per poterli vendere A setta quattro Quindi Quello era L'altro problema Io poi dovevo Convincere anche In fabbrica Il mio socio Che era più tecnico E quindi Quattro bicchieri Ma perché quattro Facciamone uno Poi vediamo Però Piano piano Facendolo ragionare Gli feci capire Di quanto era innovativo Questo progetto Va bene Gabriele Direi che è arrivata L'ora della domanda Che tutti su questo canale Si aspettano Ovvero Parliamo del Cibi Grande Diciamo Bicchiere celebre Di questa azienda Probabilmente Quello che Tutti conoscono Il Cibi Disegnato da Cini Boeri Appare Nell'82 Nella pellicola Blade Runner Che Ancora una volta Su questo canale È più che conosciuta Ma Siccome girano Un po' di leggende Su questa cosa Vorrei sapere da te Com'è andata davvero Cioè Com'è che questo bicchiere È approdato ad Hollywood Ed è finito Tra le mani di Harrison Ford Dunque Vabbè Intanto il bicchiere È stato disegnato Ho scoperto Nel 71 Mentre pensavo Nel 73 L'ho scoperto Perché ce l'hanno richiesto Fanno l'anno prossimo Una mostra celebrativa Di Cini Boeri Per il centenario Della sua nascita E quindi Ho scoperto Dall'archivio Di Cini Boeri Che è stato disegnato Nel 71 Papà mi racconta Che fu molto L'impatto Con il pubblico Fatto di negozi Al dettaglio Per le liste Nozze Eccetera Fu difficilissimo Quindi non è che Incontrò il gusto E subito Fu un successo Perché? Perché era un bicchiere Strano Come appunto Diceva Enzo Mari Era un bicchiere Spigoloso Un bicchiere Difficile da bere Però Pensato per il whisky Per Insomma per i cocktail Non da tavola Quindi Nell'80 79-80 Papà fa un primo Viaggio esplorativo Perché il nonno Muore nel 78 Quindi papà Decide di fare Un viaggio in America Nel 79-80 E già lì Trova i primi Partner negozi E venda Un negozio A Los Angeles Giusto appunto Il bicchiere Cibi A quel punto Noi non sappiamo Più niente Io premetto Che nell'81 Avevo 13 anni Quindi Quello che sto raccontando L'ho sentito Da papà Quindi Non sappiamo Nulla Di Che questo bicchiere Chi l'ha scelto Non si è presentato Un Art director Del film Si presenta Da questo rivenditore Nostro A Los Angeles Fatto da papà In quegli anni Lì E acquista Il bicchiere In totale Anonimato Senza dire Per quale uso Nell'anno successivo Girano il film Nell'81 Nell'82 Esce il film E vediamo Il nostro bicchiere Nel film Da allora Sì veramente Le vendite Sono partite E non si sono mai fermate Cioè da allora È un best seller E parliamo ormai Di 40 anni Dall'ora Da 50 anni Dalla progettazione E che reazione avete avuto Cioè ve l'aspettavate Questa cosa È stata un'emozione incredibile Perché poi la scena Dura 4-5 minuti Si vede in due momenti diversi E quindi È stata una Lietissima sorpresa E tuttora Viene utilizzato Non so La maletto di Sarono L'ha messo Nello spot televisivo L'anno scorso L'anno prima È una serie Netflix Di Guillermo del Toro Lo usa in un episodio Per 7-8 minuti Quindi è stata proprio Un'icona Di quegli anni E forse Il bicchiere da whisky Per eccellenza Beh sì È sicuramente Un bicchiere iconico Si può dire che sia Forse il vostro bicchiere Più iconico Magari per chi Non è addentrato Nel mondo del design Più di tanto Sicuramente Si ricorderà di Arnolfo Di Cambio per quello Sicuramente E chiaramente Noi ci puntiamo tanto Perché il bicchiere È più conosciuto Ed è un bellissimo bicchiere Cioè comunque È un bicchiere Senza tempo Come tutto quello Che cerchiamo di fare Cerchiamo che i nostri prodotti Abbiano un'anima E che durino per sempre Cioè mi piacerebbe Rimanere un po' Oltre la storia Prima o poi Tutti moriamo Prima o poi Tutti non ci siamo più Piacerebbe che gli oggetti Creati da Arnolfo Di Cambio Rimanessero nel tempo Senza tempo Rimanessero nei libri Nelle riviste Nei film Proprio per Timeless Che non Tramontino mai Sperando di poterli Produrre E vendere Anche oltre di me Oltre Beh questa è sicuramente La chiave del buon design Cioè il buon design È quello che perdura Che non annoia mai E che effettivamente Si lascia ricordare Utilizzare sempre Però insomma Abbiamo parlato del Cibi Che è sicuramente Appunto l'oggetto più venduto Probabilmente Della vostra azienda Ma c'è un oggetto Un oggetto Un bicchiere A cui tu sei più legato Un progetto A cui tu sei più legato Ma sicuramente Come dicevo prima Quello di Enzo Mari E direi che anche Questo boccale da birra È una cosa curiosa Questo è stato disegnato Da un anonimo Architetto giovanissimo Produttore di vino Nel Montalcino Una piccola cantina Matto come un cavallo Anche come si presenta E un giorno Arrivò qui da me A trovarmi Che poi tra l'altro È quello che ha disegnato Il calice del Brunello Tecnico Per conto dell'università Quindi fu in carica Io lo conobbi Per quel motivo lì Si presenta con Questo modello qui In terracotta Dicendo Guarda ti volevo far vedere questo Quindi io sono aperto Spesso anche a nuove proposte Nuovi design Anche sconosciuti E quindi niente Mi presenta questo qui In terracotta Provo ad avvolgere La mano intorno E dico Ma bello Molto complesso da fare Questo bicchiere Un bicchiere pressato Quindi con tutti Dei sottosquadri Non per niente facile Una vera sfida Perché comunque Abbiamo cercato sempre Di raccogliere qualunque sfida Non di dire Non si può fare Perché spesso Il designer Se non viene E vive la produzione Capisce tecnicamente Quello che si può fare Tende a disegnare cose Che non sono fattibili E questo è proprio E questo è proprio Il cruccio Di noi architetti Designer Che veniamo incolpati Di questo Se invece Conosci Dovresti riuscire A capire Che questo Non lo posso fare Questo sì Cioè che un bicchiere È pressato Il cibi Non potrebbe mai Essere pressato Perché il pistone Che esce Spacca tutto Un bicchiere rotondo Può essere pressato Questo qui È un bicchiere Che è pressato Quindi c'è un maschio Che entra qui dentro Ma lo stampo Si apre in più parti Ed è molto bello Perché è un boccale Da birra Che contiene Circa mezzo litro E molto ergonomico Provalon È solo per Destri E ho scoperto Che il mondo dei mancini È il 14% del mondo Detto da un mancino Che infirma Perché non l'avete fatto Per i mancini Dico perché È uno stampo costoso E quindi Mi appassionò molto Come oggetto Fatto più o meno Nel 2000 Direi 2003 E sicuramente Molto particolare Mi ha affascinato molto Il rapporto con Michele De Lucchi Che è venuto a trovarmi In azienda Con tutta la famiglia Mi pare che ha Quattro figli come me Venne giù Con una mega Minivan Moglie e figli Passò varie ore In azienda E mi ha disegnato Questo calice bellissimo Cioè io gli chiedevo Qualcola di quadrato Lui si rifiutò Di disegnarmi Una Parason quadrata Perché sbrodola Di Enzo Mari Anche lui La pensa Anche se è un allievo Penso più di Ettore Sozza Sì Di Enzo Mari E la Parason Quindi rotonda Pratica per appunto Bere facilmente Ma questo gambo e piede A iniezione Lo trovo di un'eleganza Incredibile Cioè trovo veramente Che è un bicchiere Molto elegante Beh è l'eleganza tipica Di De Lucchi Che è riuscito a racchiuderla Effettivamente in un oggetto Era un altro personaggio Che mi ha affascinato molto Ascoltare e interagire con lui Proprio perché mi piaceva Proprio come persona Beh all'aria affabile C'è chi l'aveva definito Il mago dei design Poi all'epoca Aveva la sua produzione privata Di quelle lampade artigianali Che faceva e vendeva Dalla sede E quindi mi affascinò molto Come personaggio E anche Lavorare con lui Cioè il bello Di questi rapporti Col mondo del design Sono proprio Le interazioni Con le persone Cioè comunque Alcuni più simpatici Altri meno Un po' più sgorbutici Un po' più duri Un po' più facili Un po' più generosi Anche economicamente Perché c'è anche la parte economica Che regola i rapporti Però in generale Tutti i rapporti Che hanno segnato Me come persona E nel mio percorso Imprenditoriale Beh questo è molto interessante Oltre al fatto che Permette a noi di conoscere Anche l'uomo dietro il designer O la donna dietro il designer E forse mi hai già risposto Involontariamente La domanda che ti sto per fare Però vediamo se è così Qual è stato L'oggetto che ha richiesto Cioè quello più sfidante Che ha richiesto Veramente più energia Più attenzione E che è stata Una sorta di sfida Per esempio questo Questo qui che abbiamo Qua dietro È un altro oggetto Questo è disegnato Da Oscar Tusquets Blanca Altro personaggione Di Barcelona Catalano Puro sangue Questa è un'antipastiera Che nasce tutto In un blocco di cristallo Pressato Con Tranne il buco Non nasce col buco Nasce piena Poi il buco viene fatto a freddo Ma nasce con un riporto Qui in mezzo Che deve essere Tutto segato a mano E tutta ripulita Per toglierlo Quindi qui siamo partiti Da uno schizzo Dallo schizzo A un modello In quel materiale Che si usa nell'edilizia Per isolare Tipo poliuretano Che fece fare lui Ci confrontava a Barcellona Un paio di volte Sull'argomento Per poi realizzare Lo stampo Costosissimo Gigante Immagino Uno stampo Veramente enorme Che ha necessitato Varie prove Per arrivare al risultato Perché aveva Tante complicazioni Anche in questi angoli Vivi che si sbeccavano Questo che non si riempiva Il manico Che non saliva Fino in cima Quindi è stato sicuramente Una grande sfida Ma come quasi tutti Gli oggetti Che creiamo Cerchiamo comunque Di non fare cose Troppo semplici Perché altrimenti Il prodotto automatico Fatto a macchina Potrebbe rifarlo Facilmente Eh sì Cioè lo stesso cibi Non è fattibile a macchina A un automatico Cioè non così bene Lo potresti fare Modificando il disegno E quindi non è più Quel bicchiere lì Beh questo è anche un bene Perché No no è sicuramente un bene Rende unici I prodotti Che effettivamente Già lo sono di base Ma In questo modo Lo sono sicuramente di più Abbiamo visto insomma Che il buon design Appunto non ha tempo Abbiamo visto i grandi nomi Che hanno collaborato Con l'azienda Ma a questo punto Eh Io te lo voglio chiedere Nel senso che È chiaro che Nell'idea collettiva Il buon bicchiere da whisky O comunque Il bicchiere in generale Di questo genere È associato magari A una visione Un po' Più Antica Vogliamo dire Dell'uomo Che beve in compagnia Al sigaro Ma qual è Invece Perché ho visto Che state cambiando Un po' Rotta State cercando Una nuova visione Qual è la nuova pagina Che scriverà Arnolfo di Cambio Da questo momento in poi Stiamo cercando Di rivolgerci A un pubblico Un po' più giovane Perché diciamo Che fino a Qualche anno fa Il nostro prodotto Era molto legato A matrimonio Liste nozze E quindi dove Soprattutto in certe zone D'Italia La suocera Partecipava In modo molto attivo Nella scelta Dei prodotti Raccomandando Per fortuna Arnolfo di Cambio Come il bicchiere buono Il calice buono Il bicchiere bello E quindi Stiamo cercando Di abbracciare Un pubblico Più giovane Quindi Chiaramente I giovani Dov'è che vanno A cercare informazioni Rispetto Alle generazioni precedenti Che guardavano le riviste Compravano le riviste Erano abbonate Le riviste O andavano In negozi A vedere i prodotti nuovi Il mondo social Sicuramente È il mondo Dove più Hai visibilità Chiaramente È un mondo Talmente Che ti apre Tutto il mondo intero Quindi da La piccola provincia Di Siena Dove siamo ubicati Possiamo vendere In tutto il mondo Attraverso i negozi O attraverso L'online Quindi Offline E non online Creando Dei contenuti Ad hoc Mantenendo L'eleganza Il rigore Per un certo tipo Di pubblico Essendo un po' più Giocosi Per un altro Tipo di pubblico E quindi Per questo Sessantesimo Insieme all'agenzia Abbiamo Individuato Tre principali Iniziative Per Appunto Meglio focalizzare Il target Più giovane A cui vogliamo Accedere Con gli stessi Dai prodotti Perché Da una parte Sì Avremo bisogno Anche di rinnovare L'assortimento Ma sempre Membro del buon Enzo Mari I suoi insegnamenti Non c'è bisogno Per forza Di nuovo bicchiere Perché secondo me Abbiamo il fior Dei bicchieri da whisky Che sono senza tempo E quindi Non c'è bisogno Di un nuovo bicchiere da whisky C'è bisogno Di Individuare Un nuovo consumatore E Emozionarlo A tal punto Da comprarsi Il nuovo bicchiere Per casa sua Magari in formati diversi Prima Vendavamo a 6 Adesso sono a 2 Addirittura Il Blade Runner In ballo singolo Quindi Ne puoi comprare anche uno Per berti il whisky Più importante Quando lo bevi E lo riponi Come un oggetto d'arte E non come un bicchiere D'uso quotidiano Quello che metti In tavola Tutte le sere Quindi Avremo individuato In Un concorso di design Che lanceremo A Salone del Mobile Aperto a tutti Quindi Non chiediamo Attestati Qualifiche Ma bensì Creatività Chiaramente Chiedendo Un disegno tecnico E un rendering Limiteremo Immagino Che non tutti Sono in grado Di fare un disegno tecnico O un rendering Però tutti possono Appoggiarsi A qualcun altro Per farlo Questo qui E diciamo Ha come focus Il bicchiere del futuro Quindi Vogliamo individuare Uno o più Bicchieri del futuro Come Appunto Lanciando il concorso In occasione Salone del Mobile Dando due mesi Di tempo Per la progettazione Al 28 di giugno Più o meno La giuria Che presiderà François Burckhardt Ex direttore La rivista Domus Ex responsabile Della sezione Design Del Saint-Georges Pompidou Di Parigi Insieme a Frank Millot Che è Il direttore Della Design Week Di Parigi Nonché Degli eventi speciali Del Maison Objet Nonché Delle partnership Di Maison Objet Delegato Dell'agenzia Digital Matiba Massimo Maestri Un professore Di design Della Parsons School Di New York E sottoscritto Ci riuniremo Qui nelle belle Colline Toscane Per valutare Tutti i progetti E selezionare I tre finalisti I tre finalisti Verranno invitati A Parigi Per Maison Objet A settembre In occasione Della fira Dove presenzeremo E in quell'occasione E della seconda iniziativa Faremo una mostra Retrospettiva Dei 60 anni Di Arnolfo di Cambio Presentando Tutti i prodotti A catalogo Ma anche Quelli che sono usciti Dal catalogo E lì tornano in gioco Qualcola di Karim Rashid Di Roger Talon Che ha processato Per noi Di designer Del passato Di cui abbiamo Qualcosa in archivio Prodotto Disegno Qualcosa Da poter mettere in mostra Allo stesso tempo Presenteremo I tre modelli 3D Dei finalisti E sarà il pubblico A votare il vincitore Nei social Sul sito E di presenza E di presenza Alla fila Di Maison Rocher Il sabato Sera Verrà primato Il vincitore Ma di tutti e tre Faremo un crowdfunding Proprio per essere Aggiornati Con i tempi Attraverso il crowdfunding Insomma Raccoglieremo Le somme necessarie A fare gli stampi I prototipi A mettere Il prodotto In collezione Chi parteciperà Al crowdfunding Oltre ad avere Un prodotto Finito In anteprima Avrà anche un NFT Del designer Che ha disegnato Il prodotto Diciamo proprio Per stare al passo Con i tempi Io personalmente Mi sono letto Qua e là L'NFT Non penso Comprerei mai Un NFT Mi piace il mio quadro Che me lo vedo Me lo tocco Ma questo non si può dire Adesso perché Altrimenti Però Chissà mai Chissà mai Come sento In televisione In radio La mattina Metaverso Ci dicono Tutto quello che può fare Il metaverso Proprio per forse Cercare di allargare Abbracciare un pubblico maggiore Metaverso Lo userà Nel vigile del fuoco Per individuare La vittima del palazzo Lo userà La chirurgia Per fare operazioni Più sofisticate Lo useremo Per tante altre cose Quindi Forse Per le mie generazioni Un po' più vecchie Dobbiamo aprirci Anche a queste nuove Culture Beh direi Che comunque Quindi questi 60 anni Non solo sono celebrativi Del passato Ma guardano Sì Al futuro E questo è Fondamentale Nel design Diciamo Nel successo E nella creazione Di altri pezzi iconici Magari ci sarà Il nuovo cibi Ci sarà Il nuovo smoke E insomma Come terza cosa Faremo questo Roadshow Di secret nights In alcuni bar Speakeasy Secrets Per alcune località Un po' più Sempre di nicchia Ma aperti a tutti In altre località Abbiamo cominciato a Roma Col barbershop Due settimane fa Per poi andare Al salone del mobile Al camparino Proseguiremo A maggio A Londra A giugno A singapore A luglio A barcellona A settembre A parigi E premeremo Il vincitore A ottobre A shanghai Novembre New York E dovremmo A febbraio A francoforte In occasione Di una fiera Del nostro settore Chiaramente L'idea è anche Quella di continuarlo Perché comunque Il nostro bicchiere Da cocktail Venga usato Fatto vivere Fatto vedere Dentro un contenuto Pubblicato Da degli influencer Che verranno invitati Per ogni serata I quali posteranno I loro cocktail Dentro i nostri bicchieri Proprio per far vedere Che comunque Il prodotto Vissuto E allargare Gli orizzonti A un pubblico Anche più giovane Che comunque Bevono Insomma Diciamo che Bisogna bere Con moderazione Ma comunque Tutti bevono Dal vino A un cocktail A un A un Liquore puro Certo Perché si può dire Sicuramente Che un prodotto Come il vostro Sia effettivamente completo Quando assolve La sua funzione E rimane Insomma Iconico Per quello che è Quindi è giusto Utilizzarli E è giusto Farli vedere In tutte le loro potenzialità E si farli vivere Farli vivere Dare un'emozione Poi All'interno Di queste tre cose qua Abbiamo incaricato Un'agenzia Per dei video Di altissimo livello Dove cercheremo Di dare un'emozione Da Una breve reel Di 10 15 secondi Per Anche lì Utilizzando Anche dei corpi Di modelle Per cercare Di Far vedere Delle mani Che prendono Bicchiere Cercare di Rendere Bicchiere sexy Che comunque Insomma La sensualità Le nostre curve Sinuose Spigoli Che abbiamo Nei prodotti Sempre per Abbracciare Un pubblico Magari Che si lascia Emozionare Da una reel Di 10 secondi Ed è invitato Poi andare sul sito E comprarlo Abbiamo parlato Dei grandi nomi Del design Ma non ho potuto Fare a meno Di notare Che comunque L'azienda Spazia Oltre che Nei materiali Perché Sì Il cristallo È il vostro Sicuramente Ma lì vedo Della ceramica E soprattutto Anche Nella moda Cioè vedo Grandi nomi Del design Ma anche Grandi nomi Della moda Com'è nata La collaborazione Di Arnolfo Di Cambio Con i brand Di moda E come Questo Ha influito Nella vostra Produzione Dunque È nata Nell'87 Grazie a Dior Che ci contattò Offrendoci La licenza Per produrre E vendere Il loro cristallo Col loro marchio In Europa Medio Oriente Nord Africa Inizialmente Fu presa Come Un'altra sfida Perché no Poi era molto Cioè Noi italiani Un francese Che viene qui in Italia Non va da Baccarà Ma viene Da Arnolfo Di Cambio A chiederti Di essere Suo licenziatario Ci sembrava Molto spendibile Anche come marketing E quindi Abbiamo cominciato Questa collaborazione Sotto forma di licenza Per il cristallo L'anno successivo Poi c'era un produttore Di posate Un produttore Di porcellana Di limogge Quindi eravamo Tre produttori Messi insieme Con una distribuzione Incrociata Nei vari territori Dove era più forte uno Vendeva tutto uno Noi chiaramente Eravamo fortissimi In Italia Se non che Il cristallo Si vendette Benissimo Fin da subito Perché Dior Scelse Di disegnarlo Quindi Andando a prendere Dei motivi Della Maison Molto forti Li hanno riproposti Sui gambi Sulla Pareson Sullo Zoccolo Sul bottone Che congiunge La Pareson Gambo E forse Grazie anche Alla nostra Forza Distributiva Riuscimmo a inserirli Nei cento negozi Più importanti D'Italia Per le liste Nozze Il problema fu Che la posata Non si vendette Granché E neanche La porcellana E quindi Nell'arco Di tre anni Ci siamo ritrovati A vendere Non solo Il cristallo Ma a produrre Le posate Le cornici Vassò In argento E tutto il resto Perché l'alternativa Era perdere tutto Quindi per non Perder tutto Abbiamo preso tutto E ci siamo fatti Una grande spesenza Perché chiaramente Vuoi perché Erano francesi Vuoi perché Secondo me I francesi Hanno un marketing Più forte Di noi italiani Guarda Champagne E il nostro Buonissimo Prosecco Franciacorta Che non ha niente A dividere lo champagne Ma è marketing Quindi Ci hanno insegnato Il packaging Ci hanno insegnato La cura del dettaglio Minuziosa Proprio quasi A veramente A dei livelli Faticosi Anche da gestire Nel rapporto Tra licenziante Che è il marchio E noi licenziatari E da quel rapporto lì Che è durato 13 anni Se ne sono Creati altri Subito dopo Sono arrivato Roberto Cavalli Che tuttora abbiamo Poi è arrivato Valentino Che abbiamo avuto Per 5 anni Poi è arrivato Blue Marine E recentemente Missoni Ha completato Il quadro Insieme a Cavalli E il nostro Marchio Con il fruidicambio In più Due anni fa È nata Un'altra sfida Abbiamo prodotto Contenitori Fino ad oggi Quindi bottiglie Contenitori Di oggetti Di liquidi Di qualsiasi cosa E mi hanno proposto Le fraganze Per la casa E dico Perché no Provare a Perché è un materiale Di consumo Cioè comunque Compri un diffusore Quando lo finisci Vuoi la ricarica Per continuare A usarlo Bruci una candela La rivuoi Perché quell'odore In casa Non ne puoi fare a meno Ti droga Quel tipo di Profumo In casa E quindi È nata Con Karl Lagerfeld Grande stilista Col suo marchio Una collaborazione Nel mondo Le fraganze Per la casa Che ci ha portato A fare le candele Per Roberto Cavalli A fare le candele Per la Missoni Dove abbiamo Anche i bicchieri Di vetro Non di cristallo Perché cerchiamo Di posizionare Nel prezzo giusto Anche a seconda Se è un uso quotidiano Se è un bicchiere importante Quindi anche In Roberto Cavalli Abbiamo dei bicchieri Di vetro A uso quotidiano Abbiamo dei bicchieri Di cristallo Che produciamo In cristalleria Che sono appunto Il bicchiere da whisky Il bicchiere Il posacene Le porta sigaro Che deve avere Un certo spessore E abbiamo notato Che ci ha arricchito Molto Proprio dal Dal punto di vista Di marketing Cioè di come La moda Riesce a comunicare In modo diverso Rispetto alla tradizione E quindi Ci ha arricchito Ulteriormente Nonché Dandoci soddisfazioni A livello di vendita Presenze in mercati Anche dove magari Avremmo avuto Più difficoltà A entrare E ci ha permesso Di entrare Anche con l'armofo Di cambio Poco dopo O contestualmente Ho capito Quindi è stato Diciamo Un gancio Anche per Sì e poi comunque Anche Nel momento Che sei autorevole Anche come Produttore tradizionale All'interno Del mondo Della moda Poi ti cercano L'anno scorso Ho fatto Dolce Gabbani I bicchieri Ti vengono A cercare Perché Perché sei Aronofo Di cambio Sei una Garanzia Di qualità Cioè vado Dal miglior Cristalliere Italiano A produrre Il mio bicchiere Di cristallo Come private label Quindi produciamo Per terzi In quel caso Lì Non Che poi Lo vendiamo Noi Non per forza Sotto forma Di licenza Come rapporti Con Missoni Roberto Cavalli E Karl Agrafer Quindi attualmente Abbiamo Quattro marchi Compreso Il nostro Aronofo Di cambio Che distribuiamo Produciamo E distribuiamo In tutto il mondo Va bene Gabriele Per me è stato Veramente un piacere Parlare con te Anche mio Veramente Grazie E non posso che ringraziarti Per comunque Le testimonianze Interessantissime Che hai dato Ai nostri ascoltatori Però direi Che il modo Migliore Per salutarci Nella casa Del bicchiere È un bel brindisi E io a questo punto Ti direi anche Di farlo Al futuro Dell'azienda E a The glass of the future Grazie Ebbene amici Questa era La cronaca Di questi due giorni Passati in Toscana Con Aronofo di Cambio Io spero Che questo video Vi sia piaciuto E sappiate Che probabilmente Questa esperienza Verrà ripetuta Perché è stato Veramente divertente Entrare nel vivo Della progettazione Con gli aneddoti E le storie Che si celano Appunto Dietro Questi meravigliosi Prodotti Di design Quelli che piacciono a noi Comunque amici Spendo giusto Altre due parole A proposito Del concorso Glass for the future Che appunto È stato presentato Al salone del mobile Per festeggiare 60 anni Dell'azienda Concorso al quale Potete partecipare Anche voi Quindi entro il 18 giugno Potete inviare Vi lascio poi Sotto in descrizione Gli estremi Il vostro disegno Per il bicchiere Che dovrà rappresentare La nuova frontiera Del designer Di Arnolfo di Cambio I primi tre finalisti E chiaramente Il vincitore Verranno incoronati Alla Maison End Object A Parigi Quindi la fiera Diciamo La fiera del mobile Di Parigi Ecco se vogliamo Chiamarla così A settembre Quindi io Vi invito a partecipare Perché a parte Che è divertentissimo Ma poi Sono belle soddisfazioni Quindi amici Vi lascio giù In descrizione Il link A cui potete inviare I vostri progetti E le vostre proposte Se questo video Vi è piaciuto Vi invito A mettere un like Nel frattempo Vi ricordo Che potete continuare A sostenere il mio lavoro E questo canale Appunto mettendo un like Come vi ho detto prima Ma soprattutto Iscrivendovi Attirando la campanella Per le notifiche Così vi aggiorno Su tutti i video Che escono In più Non dimenticate Che potete andare A visitare Il link Al mio merchandising Qui sotto Oltre al fatto Che se volete Concretamente Aiutarmi A far crescere Questo canale Potete farmi Una donazione Sul mio profilo TP Trovate sempre qui sotto Donazione mensile Fissa Oppure Semplicemente Mi potete offrire Un caffè Una tantum Io come al solito Vi ringrazio per l'attenzione E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao Grazie a tutti Grazie.